Eccoci, abbiamo pochi secondi, Vittorio, però non ho capito bene perché parli di educazione sessuale a scuola, perché io me lo sono persino letta stamattina il DDL Zanne, si parla di nascure... Allora, io... sì... Non si parla di educazione sessuale? No, no, a parte quello va bene, io mi sono astenuto su quello, però a un certo punto parla di educare i bambini al rispetto di ogni posizione sessuale. Se tu, cioè, a 14 anni noi abbiamo una sessualità pressoché compiuta, possiamo fare l'amore anche a 13, molti lo fanno, però è considerata pedofilia, anche se sei consapevole, vedi i casi di Lolita, i casi dei bambini... Come no? Ora, se tu insegni a un bambino di 8 anni che essere omosessuale è uguale, puoi orientarlo, ho detto, l'unico emendamento da fare, tutto va bene nella legge, ma tardiamo a parlare a scuola prima che uno abbia capito cos'è diventato. Possiamo convenire che bisogna discutere in Parlamento senza tenerlo insabbiato da qualche parte, basta che se ne discuta e ognuno dice la sua opinione e si trova una sintesi intelligente. Si farà. Si farà. Va bene, grazie Vittorio Sgarbi, grazie David Parenzo, grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi, ci vediamo domani mattina.